Emanuele, poi hai deciso di rimanere a vivere qui in città, perché? Uno, perché comunque io ho sposato una napoletana, i miei figli sono nati a Napoli e poi perché io sono di Palermo, Palermo e Napoli si somigliano molto e diciamo non è stato difficile per me integrarmi in questa città. Mi sono trovato bene, quindi ho tanti amici, è una città solare caratterialmente come me quindi mi sono trovato subito a mio agio. Emanuele, sei stato il primo grande investimento di De Laurentiis ai tempi della Serie C sborsò tanti milioni per acquistarti, però sei stato il protagonista assoluto di questa incredibile cavalcata dalla Serie C fino all'Europa. Quale momento ricordi con più piacere di questi anni in maglia azzurra? Ma guarda, fortunatamente tutti i quattro anni e mezzo che io ho fatto a Napoli diciamo che sono sempre stati positivi. Abbiamo vinto due campionati, poi il secondo anno quando sono venuto con Mazzarri ci siamo qualificati in Champions, quindi ogni anno che ho trascorso a Napoli sono sempre stati bei momenti perché sono sempre state vittorie e gol e diciamo pochi mesi ci sono stati appannamento quindi alla fine ogni gol, ogni minimo ricordo, ogni campionato vinto è sempre stato stupendo. Poi quando si vince a Napoli vale tutto il doppio. Quale gol invece ti sentivi prima già della partita? Dico questa partita segno. Ma io diciamo che il pensiero era ogni domenica un gol dove sono molto affezionato è stato quello con il Lecce dove c'era tutto lo stadio pieno le ultime tre, quattro partite di campionato quel gol importante che poi vincemmo con Lecce e ci permise poi di andare poi a Genova e ci bastava un pareggio per vincere il campionato. Non è stato, sai, quei gol spettacolari ma sono quei gol emozionanti che ti rimangono indelebili. Manuele, tutti ti ricordano come l'arciere ma ogni volta che senti questo soprannome ti emozioni? Ma sì, ormai ce l'ho tatuato addosso Gianluca Di Marzio me lo diede per la prima volta e poi da lì tutti quanti, tifosi, amici, giornalisti, addetti ai lavori mi hanno dato questo soprannome ed è una bella cosa perché poi col passare il tempo tanti ragazzi quando fanno gol esultano come me quindi vuol dire che ho lasciato anche un buon segno anche un'esultanza da far fare ai giovani in futuro. Volendo usare una famosa frase di Pino Daniele Napoli è calore, è passione, è amicizia, è i valori Napoli è unica perché da tifosi ti fanno sentire tutto l'affetto che hanno per la squadra io penso che tanti dicono quando ci sono i tifosi è il dodicesimo uomo in campo ma veramente Napoli quando c'è la gente allo stadio tutti quanti è veramente il dodicesimo uomo in campo per me Napoli è unica.